buongiorno a tutti ci troviamo a pregassona al secondo piano di una palazzina di 7 piani in totale per vedere questo tre e mezzo locali di circa 88 metri quadrati dall'entrata accettiamo subito la zona living con una cucina open space dotata di lavastoviglie frigorifero vano congelatore e forno ventilato d'aria calda a completare la zona soggiorno c'è un ampio terrazzo che è facilmente redabile per le strade tornando verso l'entrata troviamo il primo bagno di servizio dotato di box doccia lavavo e colonna lavasciuna che sono parte integrante dell'appartamento andando verso le camere troviamo la prima camera singola subito dopo abbiamo il bagno con specchiera dc lavavo e vasca da bagno e infine l'ampia camera matrimoniale che può essere data comodamente con un letto matrimoniale e un armadio di generose dimensioni tutte le tapparelle di questo appartamento sono elettriche e viene riscaldato tramite serpentina se siete interessati a visionare questo appartamento contattateci ti affetto grazie a tutti grazie a tutti